Ciao Cristian, ben arrivato! Sì, il paradiso! Sei morto! Tutti e due! Beh cos'è successo? Vieni qua, raccontami! Com'è che sei qua? Incredibile! Siamo qua, io me l'aspettavo diverso il paradiso, però vabbè non ci stanno! Guarda che si sta bene! Ho visto passare anche un angelo qui! Beh sì! Ma raccontami un po' tutto! Ti racconto, ti racconto! Allora, sono arrivato a casa e mia moglie era nuda sul letto! Allora, chissà, la mia testa! Mi sono preoccupato! E allora vai a cercare dentro l'armada, ho girato tutti! Mi casetti addirittura ho guardato dietro la tenda, ho guardato in cucina, sotto il letto, ho guardato per tutto! Non c'era nessuno, chissà, le mie pare, le mie pare! Non c'era nessuno e dalla gioia, dalla gioia un infarto, vecchissimo, sono morto! Sì, se venivi a controllare in freezer a questo punto ti saremmo salvati tutti e due! Non c'era nessuno! Non c'era nessuno! Non c'era nessuno!